amici sportivi amici fanta allenatori buongiorno ben trovati da prima di partire con il video vi ricordo l'importanza fondamentale di utilizzare fanta lab qui sotto al video trovate il link per utilizzarla con i codici sconto veterano potete fare un sacco di cose fissare gli obiettivi cambiare i singoli prezzi dei giocatori per la vostra asta mettere le note cambiare tutti gli indici di sicurezza che trovate a destra vedere light map e le statistiche del giocatore singolo giocatore per singolo giocatore con l'andamento anche durante l'asta e poi fare l'asta live con tutti i vostri amici quindi veramente fondamentale importanza un grazie di cuore a fanta lab che ha dato questo strumento indispensabile per i fanta nato partiamo con il video buongiorno ben trovati dal posto metrano al fanta calcio parliamo oggi di serie a parliamo del team of the week e della seconda giornata di serie a nomi importanti per capire come stiamo andando a livello di fanta calcio anche quali sono i giocatori da prendere in grande considerazione per il prossime per le prossime asse del fanta calcio visto che tanti di voi ne avranno da qui a breve me compreso ne ho fatto tante di asse alcune ancora sono da fare importa una bella sorpresa come radu quotato 9.0 su reti sopra score partita eccellente per lui si riscatta in parte dall'errore sul gol subito da mandragola contro la fiorentina radu un ottimo portiere low cost può essere un buonissimo affare chiaramente in leghe molto numerose non sicuramente in lega 8 in difesa qualche nome interessante c'è casius de bologna 7.5 diritti so fasco per lui il giocatore molto interessante qualche ballottaggio c'era ma comunque il giocatore si fa bene interpretare assist per marco arnautovic 7.5 un'ottima valutazione complimenti a lui e a che ha puntato su di lui per il fanta calcio small league non è di certo una novità 8.0 nel gol vittoria importantissimo contro la cremonese che fino allora era stata abbastanza compatta nel difendere il risultato small league però fa la differenza può essere un bel nome come secondo slot di difesa anche in leghe 8 10 perché comunque il giocatore veramente incredibile per quanto riguarda la tenuta difensiva con lui patricio forma veramente un'ottima intesa quindi complimenti a small in complimenti a murigno altro difensore molto interessante bastoni dell'inter 8.3 reti so fa score per lui il match contro spezia non era certo un match molto probante ma bastoni quest'anno può essere leggermente sottovalutato qualche bonus in più per arrivare quindi su bastoni una puntatina importante si può fare un nome invece che mi ha un po sorpreso è terzi c'è della fiorentina 7.8 per lui di valutazione per edis o fa score contro l'impoli buona valutazione chiaramente non un titolare inamovibile a centrocampo zirinski continua la sua buona vena 9.1 di valutazione veramente un match incredibile per lui quello tutto contro il monza zirinski era abbastanza preventivabile a basso prezzo ottimo perché era comprato attenzione il prezzo che si può alzare in questi giorni a fantacalcio lorenzo pellegrini non è più una vita ovviamente 8.6 per lui dire di so fa score grande giocatore grandi incursioni ogni tanto fa anche la fase difensiva in questi tre match 3 4 match che in cui sarà assente zanielo può giocare un po più avanti quindi approfittiamo per il fantacalcio ottimo ottimo innesto il giocatore del milan ben asser gran gol per lui contro l'atalanta 8.6 per lui di valutazione so fa score si fa sentire e come in mezzo al campo peso specifico altissimo un giocatore da prendere in considerazione anche leghi a 8 e 10 come terzo svolto di centrocampo non è da escludersi visto la sua media vuoto veramente di alto alto livello tre dente un po leggero ma veramente pesante a livello di bonus malinoschi per lui 7.9 contro il milan grande partita e le voci di mercato non hanno influito su di lui quindi l'ucraino ha tirato fuori una prestazione eccellente e la solita eccellenza della casa c'è il tiro da fuori di mezza altezza che ha spiazzato di fatto maniera complice anche la direzione leggera del difensore milanista quara sceglia non è più la novità per lui parlano i numeri 8.1 dire di so fa score una fanta media voto 11.8 eccellente 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 e il canale di veterano non perde l'occasione per sottolineare quanto ha spinto il giocatore georgia quindi sono molto contento infine l'altore martinez assegno contro lo spezia 7.6 di valutazione per lui dire di so fa score intesa perfetta vincente con lukaku per tornare a compiere insieme la lula grande giocatore l'altore martinez chiaramente da prendere in forte considerazione tra i primi sei nomi in attacco un grazie a tutti voi continui video in questi giorni un abbraccio a presto al veterano ciao ragazzi